25 anni di Capri Hollywood sono veramente un bel traguardo, sono 25 anni di incontri con persone importanti dello spettacolo, non solo italiane ma soprattutto americane, straniere, che vengono da tutti i paesi, hai fatto un grandissimo lavoro, veramente, complimenti, felicitazioni, ti auguro, anche se la situazione è dura, di poter ugualmente fare quest'anno la tua manifestazione, ti auguro con tutto il cuore e ti faccio i miei migliori auguri per altri 25 anni di grande Capri Hollywood. Bravo Pascal, un bacione.